Oggi è il 6 agosto 2021, ovviamente è il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Che cos'è la trasfigurazione? Gesù ha appena detto ai Suoi discepoli che andrà a Gesù a Lema e là morirà. Questo potrebbe essere un evento di grande tristezza, ma Gesù si fa vedere con questo episodio appena successivo che in realtà è un evento di grandissima luce. Non per niente chiama testimoni due persone che hanno vissuto una morte molto singolare, Mosè, del quale non si è più trovata la tomba, ed è lì che è stato rapito in un carro di fuoco per testimoniare che l'evento profondo della trasfigurazione fa vedere che gli eventi tragici che Gesù vivrà a Zerusalemme in realtà sono gli eventi di massima rivelazione di Dio, di massima rivelazione dell'amore per sascogli e noi da parte di Gesù, del Figlio e del Padre, dello Spirito Santo. Per noi questo vuol dire che ogni evento contiene la luce del Signore. Siamo noi che abbiamo necessità in qualche modo tutti i giorni di cercarlo, di trovarlo. Questo vuol dire trasfigurare il nostro reale, non trasformarlo, ma saper interpretarli in modo tale da ricavarli la luce necessaria per la nostra esistenza. Buona giornata, fatti bravi e trasfigurate tutto quello che vedete. Ciao a tutti, ciao!